Cosa è mancato questa sera per chiudere la serie qui a Roseto? Sicuramente un po' di esperienza rispetto al tipo di partita che ci spetta adesso già a mercoledì prossimo. Ci è mancato un po' di lucidità nei momenti frangenti, magari nel terzo quarto, quando avremmo dovuto fare delle cose in attacco decisamente diverse da quelle che poi effettivamente abbiamo fatto. Ci è mancato un po' di fortuna perché abbiamo fatto delle scommesse nel quarto quarto e almeno una di queste, passare sotto su Caroti, in una situazione ci è andata male. In gara 1 mi ricordo avete avuto molto dei rimbalzi d'attacco, dovete ripartire da lì mercoledì? Decisamente, dobbiamo un po' ristrutturarci tutti quanti, insomma è inutile adesso stare a pensare alla partita di oggi. Abbiamo il vantaggio di essere tanti, di essere atletici, di poter andare poi adesso mercoledì e ripartire da capo e vedere quale sarà la partita, molto diversa da quella di oggi sicuramente. Vertemati, i numeri dicono che dopo quattro partite c'è grande equilibrio, gara 5 sarà decisiva, quale sarà la chiave di questa serie? La forza di una delle due squadre è di resistere maggiormente dal punto di vista mentale e fisico, perché c'è equilibrio, Rosetto è una squadra di grande atletismo, noi siamo una squadra di medio atletismo ma non disprezziamo comunque il gioco fisico e la capacità di giocare sotto pressione fisica e pressione mentale farà la differenza in gara 5.